Il tempo corre velocissimo stamattina e noi siamo già arrivati all'appuntamento con il nostro primo ospite, dicevamo stamattina che siamo nel vivo dell'estate, sono tanti gli eventi che si organizzano un po' in tutta Italia e sono tanti i giovani impegnati proprio in prima linea su questi versanti che tante volte sono versanti culturali che vanno ad intrecciarsi con tutta una serie di altre dinamiche, penso alle peculiarità naturalistiche del nostro territorio, alle peculiarità enogastronomiche e poi c'è un gruppo di ragazzi originari del Gargano che stanno facendo rientro nelle proprie città di origine dopo gli ultimi esami di universitari che si preoccupa di raccontarci anche quello che è il tessuto imprenditoriale di un territorio molto particolare come appunto il Gargano, non per nulla la realtà di cui parliamo oggi si chiama I'm from Gargano e a parlarci di questo interessante progetto è uno dei co-founder Matteo Renzulli, buongiorno Matteo, ben trovato. Buongiorno a tutti e grazie mille a nome di I'm from Gargano per questo importante invito. Grazie a te, abbiamo detto sei co-founder di questo progetto perché insieme a te c'è Matteo Totaro e Michele Lauriola con il quale avete dato vita a questo progetto qualche anno fa per cui io ti chiedo subito di raccontarci che cos'è I'm from Gargano. Sì, allora I'm from Gargano è un progetto di ricerca e analisi territoriale dal punto di vista socio-economico, l'idea nasce nel 2015 con questo ambizioso progetto di creare un documentario che parlasse dell'economia del Gargano e l'idea di due ragazzini con una reflex in mano e questo progetto in testa. Poi ci siamo resi conto nel tempo che come progetto era realmente ambizioso, però ecco questo ha posto le basi per dare il via ad un progetto che ancora tutt'oggi continua e che sta cercando di instaurare tantissime relazioni e sinergie importanti non solo dal punto di vista nostro personale, questo sicuramente, ma soprattutto importanti per il territorio. Assolutamente d'accordo con te, infatti siete stati tra i primi a raccontare un Gargano molte volte inedito perché in questi anni sono nate molte o si sono consolidate molte realtà aziendali a matrice territoriale ma anche alcune realtà molto giovani. Tante di queste realtà le abbiamo intervistate anche noi a Padre Pio TV su Just Today e probabilmente lo spunto ci è arrivato anche dal lavoro che avete fatto voi, per cui davvero complimenti. A un certo punto il lavoro di I'm from Gargano si va ad intersecare con un altro progetto bello che nasce sul Promontorio qualche anno fa e quindi diventa parte integrante del progetto della rete Animal Living Network. Esatto, grazie agli innovatori innanzitutto sociali e poi culturali e digitali di questo territorio, noi ne siamo onorati a capire quella che la nostra vision proposta che abbiamo sul territorio e appunto non a caso citavi l'attività che più impiega il tempo che dedichiamo ad I'm from Gargano che è quella della ricerca e poi del racconto di questi modelli virtuosi del territorio e grazie proprio ad Animal Living Network siamo poi riusciti ad entrare a far parte di questo contesto e di questa realtà bellissima che sta cercando di dare vita nuova e innovativa a tutto il Gargano. E con la rete Anima, I'm from Gargano organizza, a proposito di quegli eventi di cui si parlava prima, organizza per il prossimo 3 agosto a Monte Sant'Angelo un evento molto particolare, un talk di innovazione sociale, digitale e perché no anche culturale di cui appunto siete protagonisti. Come si chiama l'evento, in cosa consiste e quali sono gli ospiti che lo arricchiranno quest'anno? Sì, allora stiamo parlando di CIP, appunto Micro Festival di Innovazione Sociale e Digitale di cui insomma siamo privilegiati a poterne portare traccia su Monte Sant'Angelo e il format insomma dedica la sua attenzione al dialogo con il pubblico e l'obiettivo è quello di accrescere maggiormente la connettività dei nostri territori attraverso il racconto appunto di role model, appunto realtà e soggetti virtuosissimi, non solo dal punto di vista territoriale ma anche nazionale se vogliamo e non a caso quest'anno riproponiamo in piazza del Galganis CIP il 3 agosto e ci saranno insomma nomi interessanti e ne varrà la pena parteciparne soprattutto attivamente proprio perché le relazioni a cui puntiamo devono essere belle relazioni ma importanti soprattutto per il territorio. Stavo ecco stiamo vedendo a tutto schermo la locandina di quest'evento che ha avuto come prima tappa quella del 12 luglio a mattinata e avrà questa seconda tappa come dicevamo il 3 agosto a Monte Sant'Angelo, molto bella anche la grafica che invita il nostro pubblico a partecipare, l'accesso è libero Matteo e quali sono gli ospiti che arricchiranno il talk di Monte Sant'Angelo? Allora quest'anno abbiamo optato per 4 ospiti e i nomi sono i seguenti quindi questo diciamo è il primo spoiler pubblico e si va da Niccolò Andreula innovatore ed economista diciamo su piano nazionale per poi passare a Giulio Xaet, Alessandro Gascavilla e Max Brigida sono dei nomi insomma che soprattutto non solo sul panorama territoriale ma soprattutto sul panorama nazionale ecco hanno un impegno profuso sulle tematiche appena raccontate e soprattutto in termini di connettività cercheremo di insomma aprire un bel dialogo quella sera. Ti chiedevo prima se l'evento è aperto a tutti, le modalità per partecipare quali sono? Assolutamente, l'evento è aperto al pubblico e si terrà in piazza dei Galganis alle ore 20 e 30 e quindi vi aspettiamo il 3 agosto. Molto bene Matteo, io ti ringrazio per la piacevolissima chiacchierata che abbiamo fatto insieme stamattina e vi faccio i complimenti per il lavoro che state facendo. Molte volte ti ho sentito dire noi siamo giovani, siamo giovanissimi ma in realtà questo è solo valore aggiunto ed è bello che la vostra energia, le vostre competenze siano da traino per i nostri territori dove poi è ovvio che è altrettanto importante riuscire a fare un bel gioco di squadra per cui ognuno di noi è veramente prezioso ed importante e voi lo siete in maniera particolare. Grazie mille ancora per l'invito, è un caloroso saluto. Grazie a voi, buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Noi torniamo alla nostra scaletta, ci fermiamo però soltanto qualche istante per tirare il fiato poi andremo a scoprire un altro evento estivo di particolare rilevanza giunto ormai alla ventiquattresima edizione, vi anticipo, stiamo parlando del mercatino del gusto di maglie in Salento, maglie la città di Aldomoro in provincia di Lecce dove ha luogo da 24 anni ormai come dicevamo questo grandissimo evento enogastronomico che è però trainato da un forte sentimento culturale ce ne parlerà il suo ideatore Michele Bruno subito dopo la pubblicità.